Buonasera tra un viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. C'è una coda sulla Firenze e Pisa Livorno, siamo all'Astra a Signa provenendo da Firenze. Ancora coda in A11 tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze. Passiamo alla 1, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. E tornando alla Firenze e Pisa Livorno tra San Miniato e Santa Croce, veicolo fermo, rallentamenti in entrambe le direzioni. Ricordo che da ieri fino al 15 aprile 2025 è entrato in vigore l'obbligo di montare pneumatici invernali o di circolare con catene a bordo. Lavori a Firenze via di Fagna, un allaccio alla rete idrica a partire da lunedì 18 novembre, divieto di transito tra Viuzzo di Fagna e via del Donicato. È tutto per il momento, muoversi in Toscana con Regione Toscana, città metropolitana, Comune di Firenze.